Stop all'emungimento dal lago, agricoltori in ginocchio, è scattato da poche ore il provvedimento per la salvaguardia del Massaciuccoli, sceso 30 cm sotto il livello del mare. Luci al piagione dietro front di Gesam, la società ha annunciato di aver congelato il provvedimento di rimozione dei lampioni dalla strada che aveva suscitato proteste e polemiche. Ora la parola passa al comune di Lucca. Ancora non identificato il giovane trovato morto sul greto del torrente Grignetola a Castelnuovo, potrebbe essere un tunisino di 31 anni scomparso da Pisa nei giorni scorsi. L'Aido cerca un presidente e l'Associazione Donatori di Organi della provincia di Lucca rischia di chiudere perché nessuno vuole assumerne la guida. Lo sport Givi Borgo Scatenato avanti a Forza 9, tanti finora gli acquisti della società bianco-rosso-azzurra al terzo campionato consecutivo di Serie D. Obiettivo una salvezza tranquilla. Basket la seconda americana e Franci per sempre. Il Gesam Lemura deve completare il roster con una forte pivot americana. A giorni l'annuncio, intanto Francesca Dotto, passata a Schio, conferma tutto il suo amore per Lucca. Ben trovati a questa nuova edizione del TGNO in apertura. Torniamo a parlare di siccità e dei problemi all'agricoltura. È stato preso da poche ore un provvedimento per la salvaguardia del lago di Massaciuccoli e gli agricoltori non potranno più contare sull'acqua di questo lago. Vediamo il servizio. Da quasi dieci anni non si registrava una situazione del genere. A causa della siccità, il livello del lago di Massaciuccoli è sceso sotto i 30 centimetri rispetto al livello del mare. Vicenda critica per l'ecosistema del bacino e per gli agricoltori. Per evitare che l'aggravamento dello sbilancio idrico favorisca l'ingresso di acqua salata nel lago, infatti, il Consorzio di Bonifica è stato costretto, in base alle norme di salvaguardia disposte dal piano di bacino, a chiudere le cateratte che permettono il prelievo di acqua per irrigare i campi e le serre. La situazione è grave, insostenibile e il Consorzio sta lavorando per trovare al più presto una soluzione. Noi abbiamo chiesto alla regione, all'assessorato e all'incontro urgente per capire se è possibile gestire questa fase, magari distribuendo l'acqua in modo più razionato, in modo tale da poter arrivare alla situazione magari delle piogge che sono previste purtroppo non imminenti, ma anche dando la possibilità, magari con un accordo mirato, di poter dare acqua in momenti particolari della giornata o magari a giorni al tempo di poter consentire alle culture di poter, come dire, essere irrigate. Le acque del Massaciuccoli vengono utilizzate per irrigare i campi di ortaggi, le serre con i fiori e i frutteti di molte imprese agricole che adesso si trovano in ginocchio. La cronaca rimane ancora sconosciuta, l'identità del giovane trovato senza vita mercoledì pomeriggio sul greto del torrente Grignetola a Castelnuovo Garfagnana. La salma deve essere ancora riconosciuta dal presunto fratello. In base agli elementi raccolti, i carabinieri ritengono che si tratti di un giovane tunisino di 31 anni residente a Pisa, la cui scomparsa è stata denunciata nei giorni scorsi. Solo i familiari però potranno accertare questa tesi. Il riconoscimento è in programma nelle prossime ore. Subito dopo, il medico legale Stefano Pierotti, incaricato dal sostituto procuratore Lucia Rugani che coordina le indagini, procederà con l'autopsia sul cadavere. Come già anticipato, un primo esame esterno della salma escluderebbe una morte violenta causata da terzi. Più probabile che il decesso sia stato dovuto a un malore, a una fatalità oppure all'assunzione di droghe. Ancora la cronaca. Ha finto un rapimento per ottenere dalla madre i soldi da spendere per l'acquisto di droga. Nei guai un livornese di 43 anni e il suo complice, un viado brasiliano di 24 anni, arrestati per simulazione di reato e tentata estorsione, mentre un pakistano di 33 anni è stato denunciato per favoreggiamento. La vicenda è stata scoperta dalla squadra mobile di Livorno. In poche ore, dopo aver raccolto mercoledì pomeriggio, la denuncia è presentata dalla madre del 43enne. La donna ha riferito agli inquirenti di aver ricevuto la telefonata di uno sconosciuto che chiedeva mille euro di riscatto per liberare il figlio rapito, altrimenti gli sarebbe stato tagliato un orecchio. Per monitorare la situazione, i poliziotti hanno allora posto sotto intercettazione il telefono della mamma del presunto rapito e hanno consegnato alla donna banconote false da consegnare ai presunti rapitori per il rilascio dell'ostaggio. Lo scambio è avvenuto a Torre del Lago, presso un locale che vende kebab gestito dal pakistano. A ricevere i soldi sono stati però proprio il livornese e il transessuale che avevano architettato il piano ma che sono stati subito arrestati dalla polizia. La madre del 43enne ha anche raccontato agli investigatori che in passato è stata vittima altre volte di raggiri simili per una cifra complessiva che sfiora i 30 mila euro. Adesso torniamo a parlare della vicenda della pubblica illuminazione alla piagione. Gesam prima ha annunciato la rimozione dei lampioni, poi però ci ha ripensato e ha congelato il provvedimento. Via la luce pubblica dalla strada interna del piagione, anzi no. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi la rimozione dei lampioni, la Gesam ci ha ripensato ed ha congelato il provvedimento. Al momento quindi i lampioni rimangono, con la società del gas e dell'illuminazione che passa la palla o la patata bollente al comune. Ma andiamo con ordine. All'inizio della settimana al piagione sono comparsi gli avvisi Gesam che annunciavano lo smantellamento dell'illuminazione pubblica nella stradina dietro ai condomini che si affacciano sul Brennero. Motivo? Gesam si è accorta che i lampioni non ricadono più sulla proprietà pubblica, bensì su proprietà privata, e quindi non sono più di sua competenza. Il fatto, come era inevitabile, suscita le proteste dei residenti e le opposizioni lo hanno reso noto anche in Consiglio Comunale. Adesso il presidente di Gesam Energia, Alfredo Macerini, ha annunciato lo stop alla rimozione dei lampioni. L'iter del provvedimento è partito diversi mesi fa, ha spiegato, e nel frattempo è cambiato l'assessore di riferimento in comune, che adesso è Celestino Marchini, ed è cambiato pure il dirigente. Penso sia il caso che questa decisione venga valutata dai nuovi responsabili a Palazzo Orsetti, ha aggiunto Macerini. Il presidente ha anche ribadito che Gesam è impegnata nel censimento degli impianti di competenza e spesso vengono alla luce situazioni anomale, come quella del Piagione, dovute a provvedimenti che si sono sovrapposti nel corso degli anni. Ci spostiamo in Valle del Serchio, un passo avanti per la sicurezza idrogeologica a Molazzana. Vediamo il servizio. Un passo avanti per la sicurezza idrogeologica a Molazzana, grazie ad un intervento del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che per mezzo di un piano di sviluppo rurale regionale ha permesso di mettere in sicurezza il versante nord del paese, un intervento piuttosto importante per un investimento di oltre 100.000 euro utilizzando tecniche di bioingegneria. È un intervento importante perché sostanzialmente mantiene l'integrità del versante buscato, regima l'acqua verso valle e quindi dà un senso di sicurezza rispetto anche allo scorrimento delle acque pluviane. Questo rientra in un piano del PSR che, ricordiamolo, è sulle zone boscate e quindi col duplice effetto di, diciamo, la sistemazione idraulica ma anche del versante buscato. A giorni prenderà il via il secondo lotto che riguarda la parte più in basso e la strada comunale. Diciamo in continuità con il lotto precedente che si vedeva al versante, verrà realizzato praticamente un attraversamento per questa strada principale comunale perché sostanzialmente abbiamo uno scatolare non adeguato per cui dal punto di vista idraulico crea qualche problema di deflusso. Per cui sostanzialmente il secondo lotto prende in considerazione dalla strada verso valle e completerà tutto il primo lotto che abbiamo visto prima. È partito da Val d'Ottavo il percorso storico e di memoria dedicato alle vittime della mafia. Mercoledì sera, 25 anni dalla strage di Via D'Amelio, il sindaco Andreucetti e il prefetto Simonetti hanno inaugurato la prima delle cinque serate pensate per ricordare e attualizzare l'azione di coloro che si sono battuti per la legalità portando sempre avanti il sogno per un'Italia migliore. A Val d'Ottavo, in piazza Vittorio Veneto, da mercoledì sera una targa e una panchina portano il nome dei giudici Falcone e Borsellino e ricordano a chiunque il loro impegno e la loro idea di giustizia. A Lucca rischia di chiudere i battenti la sezione lucchese dell'Associazione Italiani Donatori di Organi perché nessuno vuole assumerne la presidenza. Sentiamo. Vinicio Fruzzetti ha speso una vita intera per l'Aido, l'Associazione Italiana Donatori di Organi. Dopo aver ricoperto per molti anni la carica di presidente della sezione provinciale di Lucca e per due mandati consecutivi non può più farlo per le disposizioni dello statuto. Il problema è che nessuno degli associati è disposto a prendersi la responsabilità e così questa realtà, che conta quasi 7.000 associativi, rischia di scomparire. Al termine dell'attuale commissariamento, infatti, in caso di mancata elezione del presidente, la sezione provinciale dell'Aido verrà chiusa. Significherebbe buttare alle ortiche oltre 40 anni di storia, di storia dell'Aido nel volontariato lucchese, ma non solo, anche nel volontariato italiano, perché l'Aido si è affermato ultimamente grazie alle donazioni che ci sono state e quindi significherebbe proprio far sparire questa realtà che onestamente devo dire anche i dati delle donazioni al 31 dicembre ci danno ottima, stupenda. Fruzzetti ha inviato una lettera a tutti gli associati e alla stampa, sperando che qualcuno raccolga l'invito a guidare un'associazione preziosa ed efficiente. È disposto ad affiancare nel lavoro il nuovo presidente e ai nostri microfoni rivolge l'appello agli attuali associati Aido, ma, perché no, anche a nuovi elementi. Io sarò al fianco di questa persona, di queste persone, perché qui si tratta addirittura di ricostituire il consiglio direttivo che con il commissariamente è decaduto, per cui queste persone che si vorranno prendere l'onere di portare avanti il dettato associativo e lo statuto sappiano che io e il mio ufficio, perché abbiamo anche un ufficio con il servizio civile, siamo a disposizione di queste persone, per cui nessuna paura, fatevi avanti chi si vuole fare avanti, parliamone, io vi darò tutti gli indirizzi, tutti gli aiuti che è possibile dare. Chiudiamo con la musica, l'opera, venerdì prossimo al Festival Puccini, la prima di Bohème, diretta da Maurizio Scaparro. Nel filone dell'omaggio alla Francia e alla sua capitale, il Festival Puccini porta in scena, venerdì 21, nel Gran Teatro all'Aperto di Torre del Lago, la prima di Bohème. Nei panni di Mimì, il soprano, armeno, Carine, Babà Jaïanne, mentre per la prima volta sul palcoscenico di Puccini, nei panni di Rodolfo, il tenore polacco, Piotr Beczala. Tre le rappresentazioni con le suggestive, poetiche ambientazioni parigine, firmate dal compianto Jean-Michel Follon. La regia, nelle tre rappresentazioni del Festival, 21 e 28 luglio e 11 agosto, è firmata da Maurizio Scaparro. Dedico questa nuova edizione dello spettacolo a Follon e a tutti quelli che nella nostra Europa, nei secoli, nei paesi e nelle lingue più diversi, ha detto il regista, vivano e lavorano per opporsi a una crescente società dei senza amore e dei senza sogni, e ai giovani che dovranno inventarsi dieci, cento, mille altre pareggi. Puccini e la Francia sono qualche cosa di straordinariamente comune. Questo dobbiamo rendersene conto. L'importanza di Puccini, della sua musica, nasce anche dal suo amore che aveva, come aveva la Versilia, come aveva la Versilia, per la costa che c'ha davanti. Siamo in pieno Mediterraneo, siamo in pieno Bataclan. E in tutto questo, la parola amore, la parola poesia, la parola ottimismo è presente in Puccini. Bataclan, che qualcuno ha associato a questo Caffè Mon Mousse, è semplicemente per il fatto che c'è la voglia dei francesi e di chi, come tanti europei, vanno ogni giorno a Parigi di mescolare la bellezza della città e della Francia al piacere di stare assieme. La giovane Elisabetta Zizzo vestirà i panni di Musetta, mentre nel ruolo di Marcello Raffaele Raffio, nel ruolo di Chonar Francesco Baiocchi e nel ruolo di Collin Gianluca Breda. Assistente alla regia Luca Ramacciotti. I costumi sono firmati da Cristian Darold, le luci di Davide Ronchieri. Il coro del Festival Puccini è istruito da Salvo Sgro, mentre alla guida del coro delle Voci Bianche Viviana Picella. Ed è tutto per la prima parte dell'ETG, adesso c'è la pubblicità e dopo torniamo con lo sport. Grazie. Grazie.